amiche amici buongiorno anzitutto vi presento mi chiamo marcello secco faccio questi video perché sono appassionato di moto quindi anche se anche tu come mai si è appassionato appassionato di moto seguimi iscrivendoti al canale e attivando la campanella in modo da essere costantemente aggiornato sulle novità perché pubblico i video una volta al giorno oggi volevo parlarti quindi di onda nx 500 che vado a confrontare oggi quindi a vedere quali sono le caratteristiche che consentono di operare un confronto con il progetto della mv agusta denominato 5.5 lucky explorer quindi cominciamo a parlare di onda perché siamo nel 1988 quando nasce la onda nx 605 dominator da cui appunto prende ispirazione questo nuovo percorso che onda vuole intraprendere che riguarda appunto questa tipologia di moto c'è una tipologia di moto che dovrebbe avere come caratteristica quella della leggerezza in quanto la onda che era una monocilindrica pesava 150 kg a secco ed era appunto considerato una moto tuttofare in quanto grazie al suo peso grazie alla potenza che era discreta insomma parliamo di 46 cavalli per l'epoca 6.000 giri era appunto destinata a un utilizzo tuttofare quindi poteva essere utilizzata sia per quanto riguarda l'utilizzo giornaliero ma anche per brevi escursioni fuori stradistiche e questo ne ha decretato di fatto il successo proprio a livello mondiale perché nel mondo ci vi sono tanti club che che appunto ne celebrano le caratteristiche positive da questo quindi punto di partenza quindi considerando questo come elemento fondante onda vuole presentare quindi si tratta di un progetto per l'anno prossimo una moto vediamo qui intanto perché è veramente molto bella la dominator questa immagine quindi vedete una moto assolutamente leggera moderna anche anche attualmente con con le sue linee e che appunto caratterizzata dal paracoppa che sta a dimostrare la sua versatilità e il suo utilizzo anche fuori stradistico qui dicevo vuole presentare una moto che su questo filone insomma potrebbe appunto avere come motore un bicilindrico quindi attualmente in questa categoria vi sono più bicilindrici il bicilindrico potrebbe essere quello di 471 centimetri cubici che caratterizza le altre moto del di questo segmento della onda le altre tre moto tra cui la la x 500 x e quindi prendere questo sostanzialmente questo motore per andare a sviluppare una moto che sia di fatto una piccola africa twin quindi un'africa twin che rispetto alla 1100 insomma l'africa twin che c'è che attualmente in commercio costerebbe sicuramente molto di meno si parla di cifre attorno ai 7000 euro e io infatti il confronto lo vedo anche in questi termini cioè di moto che da questo punto di vista hanno prezzi simili quindi un prezzo dicevo di circa 7 mila euro quindi molto meno rispetto all'africa twin che di cui se non sbaglio siamo su intorno ai 14 mila euro quindi una cifra veramente importante quindi chi volesse invece approcciarsi a questo tipo di moto chiaramente dal punto di vista economico farebbe una scelta molto più economica d'altronde con una moto che dovrebbe essere anche più leggera quindi sostanzialmente l'approccio appunto visto che il riferimento è della dominator certo non si arriverà 150 kg però ci si aspetta una moto tutto sommato abbastanza leggera bene questo è quanto riguarda onda quindi onda che dovrebbe contrastare appunto quello che è stato anzi quello che sarà è stato nel senso che comunque la mv augusta che si propone con questo progetto denominato lucky explore 5.5 di fatto e qui infatti vedete ho messo la trk quindi la benelli trk perché perché siamo nello stesso gruppo quindi sempre il gruppo qj che produce con il marchio benelli questa moto la moto sapete ha avuto grande successo in italia quindi si è stata campione di vendite per due anni in italia è stata quindi apprezzata dal pubblico apprezzata dal pubblico perché perché il suo prezzo d'attacco era di 5 mila 990 euro quindi sotto la soglia psicologica dei 6 mila euro quindi un prezzo veramente molto interessante per una moto che si presenta la trk 502 x questo è il modello si presenta grande cioè apparentemente grande come come bmw richiama insomma queste linee di una bmw imponente pur non essendolo perché la cilindrata ridotta la potenza intorno ai 47 cavalli quindi di fatto una categoria diversa però è piaciuto molto al pubblico quindi sia per il suo come dire il suo aspetto non quindi il suo aspetto estetico sia appunto per il suo prezzo che effettivamente è molto basso quindi cosa ha pensato di fare mv augusta con questo progetto che è stato presentato all'ecma di riprendere sostanzialmente il la stessa moto quindi guardate le forme della moto perché adesso vediamo poi eccola qui la proposta di di qj insieme a mv augusta mv augusta fa parte del gruppo e quindi hanno sviluppato questo progetto quindi sostanzialmente la stessa moto però appunto è stata vista nell'ottica del progetto lucky explorer infatti presenta ad esempio il logo vedete sulla parte laterale che richiama quello della lucky explorer della parigi d'acca inoltre vi sono delle differenze ad esempio la parte frontale che era vedete con questo che aveva questo becco tipico che secondo me è interessato fa parte proprio della linea di questo tipo di moto è stato sostanzialmente tolto quindi non c'è più questo motivo estetico ma la parte frontale si presenta in questo modo secondo me è una moto gradevole sicuramente una moto che ha degli accessori dovrebbe avere comunque degli accessori più raffinati della 502 qui una cura maggiore dei particolari e quindi anche il prezzo dovrebbe anche qui di attestarsi intorno ai 7 mila euro così almeno si dice e quindi entrare in concorrenza per quanto riguarda appunto il prezzo di di onda che dovrebbe anche questo attestarsi intorno a questo valore e e quindi creare qui diciamo così un ambito in cui ci sarà questo tipo di scelta d'opera questo tipo di concorrenza secondo me la discriminante più importante è il peso in realtà perché la benelli pesa circa 230 kg quindi un peso molto importante invece onda potrebbe fare meglio da questo punto di vista il peso sapete è molto importante per una moto su strada ma ancora di più fuori strada perché più è pesante più la moto diventa critica da gestire soprattutto da fermo e quindi questo potrebbe essere un fattore discriminante bene quindi vedremo il mercato cosa ci dirà vedremo quali saranno gli sviluppi futuri io sono molto curioso di vedere cosa succederà perché effettivamente il mercato è piuttosto effervescente in questo periodo e da questo punto di vista vi ho detto tutto vi ringrazio per l'attenzione naturalmente vi chiedo di mettere un like se vi è piaciuto dislike se non vi è piaciuto iscrivetevi al canale attivate la campanella in modo da essere costantemente aggiornati qui sotto i vostri commenti soprattutto per questi confronti sono sempre a maggior ragione molto graditi ciao buona giornata